Il primo defibrillatore installato nella città di Castellammare di Stardia, il primo di dieci, Castellammare diventa una città cardioprotetta. Si pensa alla salute dei propri cittadini, auguriamoci di non utilizzarli mai, ma servono nel momento del bisogno. Anche in ospedi bici comunali saranno donati i defibrillatori, ci saranno posti di formazione per il comando di polizia municipale e per i dipendenti comunali.